Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, primo weekend del mese che inizia con tempo asciutto e solo locali acquazzoni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 6 maggio. Tempo stabile al mattino su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge o temporali informazioni su Alpi e Appennino Centro-Settentrionale, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata e nottata ancora fenomeni sparsi sui settori alpini con locali sconfinamenti sulle pianure di nord-ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime, massime e stabili o in ulteriore lieve rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.